guidate dalla nobile donna Matilde De Loffredo, seguite dalle danzatrici della principessa Costanza i banchieri, nobile Ferrante De Luca del monte di prestito di Sant'Anna dei Lombardi il magnifico Giovanni Acciaioli, in rappresentanza dei banchi di prestito di Poggio Accaiano e la nobile donna Ginevra del Poggio l'orafo Fiorentino Mastro Leonardo di Fortezza Dabasso i cassieri della Taverna della Congiura, Casale del Santo Pietro i cassieri della Taverna dei Mori, Casale del Santo Rufo i cassieri della Taverna Antiqua, Casale del Santo Arsenio i cassieri della Taverna della Vecchia Porta, Casale del Santo Jacopo i cassieri della Taverna dello Falco, Casale del Santo Jacopo